Dall'enciclopedia della polizia, opera destinata ad arricchire la preparazione culturale e professionale del personale civile e militare delle forze di polizia italiane. La missione più importante e più cara della polizia è quella di tenere perpetuamente d'occhio le classi malvagie e pervertite della società, di lottare instancabilmente, abilmente, coraggiosamente con esse, di preservare dai loro attentati le sostanze e la vita dei cittadini. Masturbazione, vizio funesto che ha tanta nefasta influenza nel fisico e nel morale e che talvolta conduce alla morte. Comunismo, il carattere sostanziale e costitutivo di esso è di distruggere l'umana personalità.